Immerso nella suggestiva tenuta di Forte Sorgnano, con i suoi 200 ettari di terreno, nel cuore della campagna Umbra, il castello di Sorgnano è una location storica ed esclusiva, con vista panoramica sulla vallata del Tevere e sul paesaggio circostante. Risalente al X secolo, il castello è stato sapientemente ristrutturato e oggi mette a disposizione i suoi ambienti per ospitare cerimonie ed eventi importanti. All'interno, i suggestivi saloni affacciati sulla vallata possono ospitare comodamente fino a 150 persone in un'atmosfera signorile e ricercata. La corte e gli spazi esterni, invece, sono adatti a ricevimenti ancora più numerosi e si propongono come ambiente suggestivo e romantico per organizzare un ricevimento durante la bella stagione, mettendo inoltre a disposizione dei più piccoli un divertente parco giochi. Il Team Sorgnano vi garantisce un servizio attento e personalizzato. Esso vi aiuterà infatti a creare la giusta atmosfera in ogni momento, permettendovi di vivere al meglio le grandi emozioni del giorno più bello della vostra vita. All'interno della tenuta di Forte Sorgnano, oltre al castello, è presente un delizioso agriturismo, dove sarà possibile soggiornare dopo i festeggiamenti, usufruendo di confortevoli appartamenti e di camere da letto romantiche e dall'atmosfera rilassante.